Salve, io sogno sempre di volare. Lei crede nella reincarnazione? Ma certo che sì, una come lei. Ma no, la sale, sa? Sale, lo stretch, dico. È un tessuto estremamente valorizzante. È chiaro che non bisogna avere nemmeno un filo di ciccia fuori posto. Ma io non ce l'ho. Diete, non so nemmeno cosa siano. D'altronde non ne sarei capace, non ho il minimo di autocontrollo. Nancy, è tutto esaurito. È rimasta solo una poltrona in persa qui. Come vedi, il tuo posto c'è. Il teatro è anche più bello di come pensi.